Nella ventisettesima giornata del Gironià di eccellenza, Lanzio torna alla vittoria contro il Ladispoli, battuto 1-0, e allontana così il secondo posto in classifica, Ladispoli che invece resta tredicesimo. Il centro sportivo Primavera gancia il secondo posto in classifica grazie a questa vittoria per 3-2 sulla strea. Civita Vecchia e Boreale ora sono a 50 punti, uno di distanza proprio dai ragazzi di Polverini, che grazie a questo successo sono arrivati a quota 49. La vittoria è stata possibile grazie a Oriano che ha completato la rimonta al 74esimo con un gran calcio di punizione. La strea invece vede rimontarsi due gol segnati nel primo tempo e perde così l'occasione di fare punti contro una big del campionato. Bianco e blu che rimangono al tredicesimo posto in classifica. Il Nettuno vince ancora e abbatte il Città di Cervetri 2-0 grazie alle reti di Veroni e Sbordone, che permettono ai verde e blu di arrivare a quota 33 punti e a salire al dodicesimo posto in classifica. Cervetri che invece rimane penultimo nel tabellone del Girone A insieme al Fiano Romano. La partita più attesa del fine settimana per il Girone A di eccellenza finisce 1-1 con Boreale e Civita Vecchia, che frenano e si annullano. Ad aprire le marcature è Ferrari, ma poi Massimiani risponde dopo pochi minuti e riporta tutto in equilibrio. La FAUCIMINI vince 2-0 contro l'indomita Pomezia grazie alla doppietta di Blazzevic, che stende l'ultima in classifica del Girone A. Ora i padroni di casa sono al decimo posto a quota 35 punti, indomita invece sempre ultima a 13. Finisce in goleata invece lo scontro fra Aurelia Antica Aurelia e Quarto Municipio, con i padroni di casa che calano il 4-1 e sconfiggono il club allenato da Daniele Lomonaco. I bianco-rossi non vincono da sei partite e in questa giornata incassano anche la tripletta di Flavio Fofi. L'attaccante numero 9 dell'Aurelia Antica Aurelia infatti sigla 3 gol e si porta a casa il pallone, conquistando tre punti importanti che permettono al club di rimanere al quinto posto in classifica. Non serve a nulla invece la rete di Tofa al novantesimo, che è solo una magra consolazione per il quarto municipio, che invece resta all'undicesimo posto della classifica del Girone A di eccellenza. Vengono segnati ben sei gol invece in Unipo Mezzia e Fiano Romano, con i padroni di casa che abbattono 5-1 gli ospiti. Vittoria importante che porta la firma di Suffer, Danieli, Rossi e Lupi, che cala una doppietta. Ma questo successo non cambia la posizione in classifica dell'Unipo Mezzia, che rimane al settimo posto in campionato a quota 41 punti. Il Fiano Romano invece si aggrappa al gol della bandiera di Desimone, che però non cambia la storia e rimane al sedicesimo posto in classifica a pari punti con il Città di Cerveteri, che è in piena zona retrocessione. Infine il Vissez vince 2-0 contro il Campus Euro, mentre la V3 Maccarese affonda al Falasco e Lavinio, vincendo 5-0.